ciao a tutti ragazzi sono Matteo del Lemo e benvenuti in questa nuova Reaction allora oggi sono a fare la Reaction al nuovo anime di pokemon, la nuova sede, il nuovo anime il titolo è appunto pokemon o bokeh monster come volete e che dire tutto è iniziato con questo trailer dove venivano mostrati i vari starter delle varie regioni in che si pensava fosse più anche il protagonista mentre invece siamo stati sventiti perchè Asticela anche nella prossima regione e avrà con un compagno di viaggio un altro ragazzo che si chiama Rago sono state rivelate nuove immagini, devo dire, sono state rivelate nuove immagini tramite l'animo e il pokemon è stato svelato il professore che il suo lavoratore sarà situato da Ronciopoli e questo professore, il doppiatore di questo professore aveva già doppiato vari personaggi negli altri anime, ha doppiato anche alcuni personaggi di Nozuma Eleven e in più sua figlia anche, anche lei doppiatrice di altri anime, il loro lavoratore sarà situato ad Aranciopoli che è veramente molto cambiata, queste sono le ultime novità che abbiamo su questo nuovo anime Pokémon che dovrebbero uscire in novembre se non mi sbaglio e io appunto il trailer che è solamente uno è solamente uno che fino ad ora almeno, fino ad ora ne avevano annunciato un altro, aveva detto che ne sarebbe uscito un altro ma per ora ancora nulla e quindi allora io vi aspetto il trailer, a tra poco eccomi qua ragazzi, scusate ho passato il volume perché altrimenti dopo non si sente la mia voce e poi per motivi di copyright, eccoci qua, allora tutto è iniziato così tutto è iniziato così qualche settimana fa e si presupponeva appunto che con questo trailer ci fossero tutti gli starter delle altre regioni ma non più Ash, però ora io ovviamente l'ho già visto però voglio fare una version con voi, anche perché secondo me merita molto quindi perché non farla eccolo qua, ecco le quali starter, tanto non si vedono perché c'è la mia account che questo non va bene, quindi metto qua vediamo, ok, ecco le quali mie starter, i secondi non si vedono comunque ragazzi, non si vedono comunque devo fare qualcosa, cioè metto qua, provo non si vedono ragazzi, non si vedono perché continuano a cambiare, non solo vuoi posizionare la campo e che non si vedono perché continuano a cambiare, continuano a fare cambia, beh, girerò non c'è cosa dirvi, allora qua il basale non c'è mai scritto, oh mi spiace, Sniperò pochi, potrei mettermi sotto però potrei, intanto il video viene lungo, vabbè, non si vedono comunque, non si vedono comunque e non serve da farsi, sono tornati in borsa e me l'ho messo in alto qua, mi metto qua al solito posto va, bulbasau, scusatemi ma vabbè dai riconoscete, ragazzi, popolio, internet, eccoli qua gli ultimi, ho già finito il teatro, intanto parlando, cioè, mi sono perso in chiacchia e non ho potuto dire nulla, però, vabbè, comunque sì, le diamo anche un'occhiata, tanto per, l'avevo già visto 50 volte, bulbasau, il primo start, i secondi, qual è la vostra generazione di serra preferita? A me piaciuto tanto, a me piace, la prima, la prima, a mio parere, è il top. Invece il mio start preferito in a solo, vabbè, mi piace tanto, mi piace tanto Charizard, Rastoise, mi piace Sceptile, Swamper, il mio start preferito è Inferno, Chincha, anche perché nell'anima ha avuto una vita, cioè, ha avuto una vita triste e difficoltà, per Paul, e quindi sì, il mio preferito è Chincha. E niente, ragazzi, ora vediamo il trailer del nuovo anime, Pokémon e Atravoco. Eccomi qua, sono tornato, sono tornato, eccomi qua, via Alteale, via Alteale. Ecco qua, una poche volte si apre, per intracciare tutto come prima, se non si vede nulla, non mi vedo io adesso. Eccoli qua, i nuovi personaggi, eccoli qua, nei personaggi, eccolo qua, Ash Katsun di Biancavilla. Wow, guardate che design che è il solito bambino di 10 anni, comunque. Questo qui è il social group. Comunque è la cosa che deve catturare tutti i più Pokémon possibili, quando in questa nuova regione, tanti Pokémon sono stati esclusi. Non ho capito questa cosa. Wow, devo dire che è molto interessante come cosa. Guardate che bello. Wow, Ash, sempre lì, solita posa, lui, da gran maestro di Pokémon. Ah, anche questo trailer è finito, raga. Uff, stop, 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 stop. Ok, perfetto, perfetto. Niente, raga, io vi saluto a videocamera piena. Videocamera, tutto schermo, perché così non mi piace. Allora, ragazzi, io spero che le reaction vi sia piaciute, scusatemi se sono tornato indietro più volte nella prima, ma non riuscivo a trovare il posto perfetto per la mia camp, poi alla fine non l'ho nemmeno trovato, quindi, perché alla fine coprivo le facce degli starter, però non sono davanti, mi spiace. Eh, purtroppo è così. Vedrò se riesco a rimediare durante redditing. Niente, io vi ringrazio per la visione e al prossimo video reaction. Bella! Ciao! 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 Ciao!